Noi vogliamo finire con un ultimo gioco, il gioco di Trash. State attenti, passeranno i titoli di coda. Chi ne inventa, chi ne inventa, sì, buonasera, già si sono inventati tutti. Chi ne legge di più, vince un premio. La poesia della prossima settimana. Avanti con i titoli. Via! One, two, three! Sono partiti? Va, aspetta. Fammi prendere un po' più. Se ne acchiappo uno, faccio vedere io. Dai. Guarda come vanno specchio. Non riesco. Chi mi vuole aiutare? Signorina, venga, mi aiuti lei. Signorina, venga lei, mi aiuti lei. Ecco. Chi vuole venire a aiutarmi? Venga, venga, venga lei. Venga lei, signora, venga. Venga, venga, venga da cercare. Dove stanno? Aspetta, qua, qua. Via questo, via questo. Questo qua, questo. No, no, qui, qui dentro. Aspetta, fammi prendere questo. Io l'ho letto questo. Uno l'ho letto. Uno l'ho letto. Aspetta, ferma. Voglio vedere se ti prendo qualcosa. Tira, tira via, tira via. Ah. Mattina, vediamo sabato prossimo. Stessa ora, stesso canale. Resci. Non si botta via niente. Chi va, chi va, chi va, qua, qua, qua. Guarda, sto salendo, qua, qua. Vieni, qua. Qua, 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 qua. Qua, qua, qua. Sono finiti. Ciao, ciao. Grazie. 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 Grazie.